Da due anni ho accertato che ho la sclerosi multipla. Siccome io non guido più perché non vedo, sarei un irresponsabile a guidare, mi hanno detto che la villa Gamaldoli aveva il pulmino che poteva venirmi a prendere e portarmi a fare la fisioterapia. Mi sono andata lì e ho detto dove sono in Svizzera. Sono stata in cura quasi un anno e mezzo. Avevo il mio fisioterapista e il mio logopedista. La qualità della mia vita è migliorata molto. La regione Campania che cosa ha pensato di fare? Di non dargli i fondi e di chiuderlo. Se tutto questo è l'inizio di un'autonomia differenziata, siamo partiti proprio male, ma non andiamo proprio bene. Sono Cristina, ho 52 anni e da due anni ho accertato che ho la sclerosi multipla. Non vedevo bene, vedevo come quando si guarda con gli occhi storti. Poi mi veniva mal di testa. Diciamo che loro lo associavano al fatto che io ero miope e quindi mi mandavano sempre all'oculista. Poi ho cominciato ad avere dei giramenti di testa, le vertigini. Altra cosa era la stanchezza. Cioè io anche da ragazza ero sempre stanca. L'associavano allo stress, quindi mi davano alla fine sempre qualcosa per la depressione. E poi ho cominciato a cadere. Un medico di famiglia che mi conosce mi ha mandato dal neurologo. Ha detto no, devi andare dal neurologo, qualcosa non va. E il neurologo mi ha mandato a fare la risonanza magnetica, la testa. Il 9 dicembre abbiamo accertato che avevo la sclerosi multipla a febbraio e oggi ero in cura. Bisognava fare anche un po' di fisioterapia perché non è che posso andare in palestra, andare a correre, non lo potevo fare più, anche perché non riuscivo proprio a farlo. Siccome io non guido più perché non vido, sarei un irresponsabile a guidare. Mi hanno detto che la villa Gamaldoli aveva il pulmino che poteva venirmi a prendere e portarmi a fare la fisioterapia. Per cui io sono andata, sempre sfiduciata, perché noi del sud quando dobbiamo fare qualcosa, scegliere sempre la sfiducia, poi chissà che trovo. E invece sono andata lì, ho detto dove sono, in Svizzera. Sono stata in cura quasi un anno e mezzo. Andavo tre volte a settimana per due o tre ore. È un centro convenzionato con l'ASL, al quale io porto la ricetta e loro mi prendono in carica, mi fanno le analisi. Poi avevo il mio fisioterapista e il mio logopedista. Col fisioterapista e con il logopedista ho una confidenza anche personale, perché loro mi conoscono, sanno i miei difetti. Se io per esempio andavo lì e avevo un dolore, mi facevano il laser, mi mettevano il cerotto, mi facevano il massaggio, mi manovravano, un giorno facevo la palestra. Anche le persone a casa sanno sereni che la persona è seguita. Lo affidiano a una persona competente. La qualità della mia vita è migliorata molto. Non gravavo sulla famiglia perché mi viene a prendere il pulmino, mi viene a prendere e mi accompagna. Quindi io mi sento da persona che purtroppo è soggetta ad essere accompagnata, di essere libera, di potermi muovere. Ed è una cosa che francamente ti rincuora. La regione Campania che cosa ha pensato di fare? Di non dargli fondi e di chiuderlo. Perché nel preciso momento in cui tu non dai fondi, lo metti in condizione di chiudere. Perché giustamente mi hanno detto io che cosa devo fare? Devo chiedere a te, cittadino, di darmi 120-150 euro a seduta per venire qui. Ma chi ce li ha? Cioè mio marito fa l'operaio, io non lavoro più perché non posso lavorare più. E quindi che si fa? Lo chiudiamo perché giustamente funziona. Noi gli diamo i fondi e tu ti stai a casa. Perché per poter andare a altre parti, io devo costringere mio marito a licenziarsi, accompagnarmi a me tre volte a settimana a altri centri. Ma poi perché? Il mio fisioterapista si aggiornava, andava a fare i corsi per seguire la mia malattia. Poi c'era quello dell'ictus, poi c'era quello del Parkinson. Quindi hai mandato a casa una marea di ragazzi che hanno studiato e che sono preparati. E poi devi mettere a me in condizioni di cambiare, quindi di ricominciare da capo. Mi faccio anche portavoce di tutti gli altri pazienti che giustamente sono rimasti a piedi. La Regione Campania, non avendo i fondi dal governo, perché il governo tende a dare meno fondi al sud, perché così è, è inutile che ci giriamo attorno, questi fondi non vengono poi suddivisi forse per bene. Perché magari ci sono altri centri che insomma non sono proprio tenuti così bene, però loro sono ancora aperti. Se tutto questo è l'inizio di un'autonomia differenziata, siamo messi male, siamo partiti proprio male, ma non andiamo proprio bene. Non mi voglio stare più zitta. E ora che anche i pazienti insieme ai medici e ai ragazzi che studiano e che non è giusto che debbano andare in giro per il mondo, cominciano un po' una battaglia di pretesa. Io resto a casa e pago le tasse. Perché non devo avere il stesso trattamento di chi vive in Veneto, in Piemonte, in Lombardia? Io voglio continuare dove ho iniziato. Un posto meraviglioso di persone competenti, cordiali, di affetto e che mettono al primo posto il paziente e poi loro.